UbiBank lancia una nuova carta di pagamento brandizzata legata all'Arezzo, prepagata con tanto di IBAN. Sì, siamo molto contenti in qualche modo di offrire questa opportunità a tutti i tifosi dell'Aurezzo, a tutti i cittadini di Arezzo, proprio perché è una carta che consente in qualche modo un utilizzo molto diffuso, una carta prepagata che può essere in qualche modo utilizzata per quanto riguarda i pagamenti all'Italia e all'estero, dispone di un suo nuovo IBAN e quindi praticamente questo consente di fare anche dei pagamenti, dei bonifici e gli addebiti di SDD, la mettiamo sul mercato con un costo molto conveniente, quindi estremamente accessibile in termini di costo e siamo, mi consentite, molto molto contenti perché la carta è veramente bellissima, quindi siamo orgogliosi di poter dare questo messaggio a tutti i tifosi per simboleggiare sempre di più una vicinanza nei confronti della società e di questa città. Come si ricarica? Si richiede innanzitutto andando allo sportello e poi è possibile ricaricarla sempre allo sportello oppure online, non è necessario avere un conto corrente e quindi questo riesce a rendere molto più fruibile ed elastica e flessibile la richiesta da parte di tutti coloro che ne vorranno fare richiesta. Si consolida il legame tra l'Aurezzo e IBANCA e questo è uno strumento ulteriore per rafforzare l'identità amaranto? Sì, serve a rafforzare l'identità amaranto, soprattutto serve ad andare in giro per l'Italia con un punto di orgoglio in più. Comunque siamo la terza società in tutta Italia dopo Juve e Atalanta ad avere la carta prepagata, brandizzata da IBANCA. Per noi è un motivo d'orgoglio e dobbiamo solo ringraziare i direttori e tutto l'istituto bancario. A battezzare questa novità Stefano Turchi, presidente del Museo Amaranto. Io continuo a ripetere l'invito a tutti i tifosi a sottoscrivere la tessera proprio per dimostrare questo senso di appartenenza e dare una risposta alla banca che questo senso di appartenenza lo sta creando, quindi uniti tutti insieme si può fare tante cose.